Raga buongiorno sto con Roberto del Soros, oggi sono a prendere la macchina e il golfo e poi vi faccio vedere se vanno a mangiare qui al Pirgo di Civitavecchia Eccoci ragà, stiamo al centro, vediamo che c'è un posto da mangiare, oggi il mare è stupendo Eccoci qua ragà, stiamo alla rotonda del Pirgo, guarda che bel mare, mamma mia una tavola Una tavola proprio C'è una fammela così, siamo una maniata di pesce ragazzi, oggi è il giornale del mare proprio Vodokan, dovete trovare dove andare a mangiare, questi ristorantini, belli Ragazzi ho scelto il tuo ristorante Il Delfino, che dici Robè? La location? C'è stata? Allora Il Delfino Questo è l'antipasto di fantasia insalatina, il polpo e patate, alici marinate, salmone E questo è col melone, vero Robè? Yes, melone Allora ragà, lo facciamo col polpo e patate, buon appetito Robè Buono il polpo, polpo è buono Abbiamo un salmone e melone che non ho massaggiato io, questo è il melone e questo è il salmone Il salmone è buonissimo, però col melone sotto, oh Mi basta assaggiarlo col melone, il salatina di amare Per me l'inzalata sono sempre quelle confezionate, per me Questo è il pesce, baccalà, baccalà, baccalà con pomodori secchi, pomodori secchi E' buono Le zucchine, adesso abbiamo il gambero, salsa, polpo e melanzane di parvigiano Allora ragazzi, il gambero E' buono Allora ragazzi, assaggiamo un tettacolo Buono, il polpo è buonissimo Sala, adesso Il polpo è davvero spettacolare qua Buono proprio Quella polenta Buona, quella polenta è buona Ho uscito un bel posto, ho uscito Buono Buonissimo Il polpo è bello fresco ragazzi, freschissimo Un bel antipasto caldo e freddo Qua abbiamo la parmigiana di scorfano E lì, dentro Assaggiamo Senti, è più parmigiana e poco scorfano però E' troppo, troppo sapore di parmigiana Non è tanto di pieno di scorfano Questo è il pacco con lo scorfano e olive Questo è il gambero crudo e cotto di marzara Con il pistacchio Bel pettone, bella porzione qua Allora ragazzi, assaggiamo Vediamo questo gambero di marzara Con questi Da paura Veramente buono Assaggiamo Guarda, questo è il Il crudo del gambero E' spettacolare, buonissimo Veramente buono raga Questo, guarda, quando il pesce è fresco Si sente comunque raga Pure i pacchi mi ha detto che so Che so trepitosi con lo scorfano E' spettacolare Bella porzione poi Questo viene 20 euro In quell'altra due vuole 20 eh Comunque raga, bella mangiata Il delfino voto 9 e mezzo Se esce fresco Ho belle porzioni Le passate ho lasciato 2, 2 e mezzo Sì, può votare Le pacche lo so da paura Tutto fatto benissimo Detto questo ragazzi Di seguite per esempio E commentate Grazie a tutti